Guardo mi concentro nella mia partita e che cosa fanno loro lo vediamo dopo la partita. Chiaro che qualcuno mi dirà hanno fatto questo ma non cambia niente per me, per la partita nostra. Se loro pareggiano, se vince una o l'altra sicuro che non cambia per la partita con l'Atalanta così non perdo troppo tempo e mi centro nella nostra. Non so se si dice così.